Ciao Sandro, ciao Laura, un salutone a tutti gli amici, il nostro campionato prosegue e comanda un'altra partita molto importante, quella tra Sampdoria e Fiorentina, del risultato tra Roma e Genoa siete già tutti a conoscenza, dunque vediamo anche questa sfida tra Bistecca e la Fiorentina da una parte e il Baccalà accomodato dall'altra, sarà una partita sicuramente molto equilibrata nella parte centrale, con i bomber in evidenza, Gilardino, Pazzini, Cassano, ancora la Fiorentina in attacco, rigore che però viene sbagliato, la Samp vince 2 a 1.